Lo avevano dichiarato più di dieci giorni fa che a stretto giro di posta le strisce pedonali sarebbero state ridipinte almeno nei punti nevralgici della città, ma fino a stamane niente. Tornato dalle ferie, il comandante dei vigili urbani Diego Goperuga provvederà entro domani mattina a dare mandato ai tre operai reperiti tra i lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento che da domani si metteranno all'opera. Infatti pare che numerose siano state le difficoltà per trovare personale che fosse idoneo al lavoro previsto. Una lunga riunione tra l'assessore Arramo Felice Dierna e il comandante, l'assessore ha sollecitato i tempi e nonostante ciò ancora nulla. Il dato è che il comune non ha più dipendenti operai, la squadra non è stata ricomposta dopo che numerosi che la formavano sono andati in pensione e dunque se ne crea una nuova di volta in volta per il singolo obiettivo. Questa volta sarà composta da tre lavoratori ex RMI. La priorità di tinteggiatura saranno le scuole che tra 20 giorni ricominceranno in piena attività e dunque buonsenso vorrebbe che si partisse adesso con rifacimento per evitare spiacevoli ingorghi durante i primi giorni di ripresa dell'anno scolastico. Ma numerosi altri sono i luoghi che necessitano il codice infatti della strada prevede che vengano a posto in tutte le strade ad alta densità di traffico. C'è un consigliere comunale che le chiede in via al GB dei Cosmi da anni ma questa è un'altra storia. Sarebbero opportune anche allo svincolo dell'entrata di Caltanissetta. I cittadini hanno delle aspettative di ordine, rigore, dichiadezza ed efficienza che se vengono dichiarate poi devono essere attuate.